buongiorno a tutti venerdì 15 dicembre siamo in diretta è tardissimo lo so non arrabbiatevi ho visto paschetta che mi ha già scritto robbie quando va in diretta che le notifiche non arrivano quando va in diretta vorremmo saperlo vorrei sapere anch'io quando vado in diretta perché non arrivano neanche me le notifiche buongiorno a tutti dieci giorni esatti al natale esattamente dieci giorni vediamo se arrivate intanto la notifichina qualcuno attendo voi buongiorno ragazzi buongiorno ragazze vediamo chi saranno chi sarà il primo collegato il primo a messaggiare vediamo la classifica dei più veloci la prima è rosanna de pera buongiorno secondo franco stella messina buongiorno terza in classifica stefie bella dance belli dance sei in ritardo oggi cesare quinto sesto bruno bevi l'acqua settimo sergio roso ottava lucia d'alfonso vediamo vediamo la top 10 amici e vediamo chi c'è ancora stefie bella dance a me è arrivata l'anno ora la notifica beh è arrivata già qualcosa amici è arrivata abbiamo ottavo adolfina giurac e nona elna gavelli vediamo il decimo più veloce a collegarsi chi sarà mai chi sarà mai anna bartoli ciao a tutti buon buongiorno vincono nettamente le donne anche oggi ciao michela buongiorno ciao rossella siete undicesime dodicesima calo clemente intanto ci aggiorna e colai nostro inviato meteo e pugliese abbiamo in provincia di taranto a castellanetta sereno e poco nuvoloso ben 15 gradi convento di maestrale ciao nicola tritto ciao silvana ciao nadia ciao manuela andiamo alle prime pagine amici nelle prime pagine robby buongiorno dj robby dice davide paschedda ciao amico mio ho visto il messaggino non ti ho risposto perché sono cattivo sono cattivo nei verità mi sono dimenticato di risponderti però ti ho nominato subito in diretta e davide paschedda mi dice che invece il nostro inviato meteo nelle in piemonte abbiamo soluzzo cuneo 5 gradi quindi c'è molto più fresco rispetto al nostro carlo clemente e mai una notifica mi dice vabbè ciao patrizia buongiorno ciao dolfina i brando mitico mattarozzi savino giorgio andiamo amici siete pronti notizia principale di repubblica prima pagina di repubblica clamorosa guardate guardate qua tutto vero abbiamo l'europa che apre ufficialmente a kiev andiamo a leggere questa notizia insieme con la decisione storica il consiglio di bruxelles ha dato via libera alla trattativa per l'ingresso dell'ucraina e della moldavia nell'unione europea incontri serrati tra i leader per convincere il riluttante premier ungherese poi orban cede uscendo dall'aula senza mettere il veto zeleschi una vittoria putin la pace solo quando avremmo raggiunto gli obiettivi e il fronte largo dell'occidente andrea bonanni tratta questo argomento sicuramente interessante e intanto inizia un negoziato destinato a cambiare l'unione europea e abbiamo in alto a destra politica jlein questo governo non durerà presto il voto se lo dice ellie jlein amici e allora durerà 50 anni il governo meloni non arriverà a fine legislatura ne è convinta ellie jlein segretaria del pd che ieri a bruxelles per il summit dei socialisti europei ha sparato questa incredibile notizia poi e cambiamo quotidiano vediamo che dicono gli altri di questo ingresso in comunità europea abbiamo libero che parla di altro guardate cosa dice allora attenzione soccorso a conte abbiamo di maio in peggio di maio in peggio di maio di meglio in peggio di maio in peggio gioco di parole sulla pagina sulle pagine di mario secchi di libero abbiamo gigino riparte riappare in tv è ritornato gigino per difendere giuseppe delle accuse di giorgia è già pronto a ritorno in campo la politica e l'arte della circonnavigazione inedita ed ecco così che può accadere di trovare luigi di maio e giuseppe conto di nuovo affiancati cosa ne pensate di gigino di maio l'uomo aeroplanino datemi un parere nei commenti e invece abbiamo a sinistra abbiamo meloni che frena orban primo ok all'ucraina per entrare nell'unione europea il consiglio europeo il via libera è arrivato anche se si tratta di una vittoria parziale e sofferta il presidente del consiglio europeo charisme michael ha annunciato la decisione del consiglio di avviare i negoziati di adesione con ucraina e moldavia di concedere lo status di candidato alla georgia e di avviare negoziati con la bosnia erzegomina e attenzione per notizie importanti sul fronte europeo intanto vedo i tanti ciao robin mi vedo i tanti collegati andiamo a fare un salutino abbiamo rossana ciao cara mi sembra di stare al circo dice michela buona spermi con le prime pagine di giornale e abbiamo cesare martinelli di maio ha finito i soldi punti interrogativo ogni dubbio è lecito sergio che dice che vada a vendere le bibite allo stadio vabbè dai lasciate poverino di maio coloro planino quanto ci manca di quanto vi manca di maio da 1 a 10 scrivetelo nei commenti torniamo le prime pagine siamo seri torniamo seri noi siamo seri oggi israele a chiev sono il nostro oggi israele e chiev sono il nostro destino daniele capezzone tratta per carità non è mai il caso di farsi illusione eccessiva però forse dopo la sorprendente giornata di ieri un filo di speranza c'è ancora la possibilità attraverso un po di buona politica di evitare il peggio capiremo in questo articolo cosa dice poi andiamo a vedere la stampa la stampa che dice sia l'ucraina quindi alla ucraina 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 come volete voi consiglio europeo ok negoziati sull'adesione zeleschi una grande vittoria sia l'ucraina nell'unione europea ma è scontro sul bilancio orbana si astiene e poi blocca gli aiuti meloni braccio di ferro con shoals intanto abbiamo anche qua spasso con a trio per a trio tra elfi e lambrusco la rivale gilene diventa un cartonato guardate che carina la liva la elgi lane cartonata e cambiamo guardiamo cosa dice il fatto quotidiano amici fatto quotidiano parlerà di gigino no parla di sgarbi perché sottosegretario la tela e se centesca del manete trafugata nel 2013 sembra la sua sgarbi e il quadro rubato riappare con il ritocco attenzione perché e la candela in più la cattura di san pietro ricompare due anni fa in una mostra il critico è un'altra ma è smentito dal suo restauratore mamma mia che cos'è e di arsennio lupin sgarbi questa questa ogni dubbio è lecito anche il fatto quotidiano per un piccolo trafiletto dedicato all'unione europea che apre a moldavia alla moldova e a chiev ma sarà lunga l'apertù sarà lungo il passaggio per poter entrare in comunità europea e abbiamo l'auto istruzionismo per scappare dal messe e si parla ancora di messe poi attenzione il giornale giornale tutti ne parlano vedete anche il giornale sia l'ucraina in europa il consiglio apre i negoziati per l'ingresso di chiev nell'unione zeleschi una vittoria per tutti svolta storica e tra invece c'è un viaggio da triù e tra veterani giovanissimi chi crescono nuove giorgia si parla delle dieti dove ci sarà anche allo masch abbiamo al centro pagina invece briatore sciocche l'italia bel paese di truffatori alla festa dei fratelli d'italia l'imprenditore sferza i colleghi nel turismo mentalità e predatoria purtroppo è vero siamo veramente cari avete mai provato andare in vacanze in italia ovviamente che sì ma ragazzi è carissima è carissima io per la prima volta ho prenotato andrò a marzo perché compie 50 anni a marzo tondi andrò ho trovato un prezzaccio molto buono con la famigliola a in egitto non ho mai visto l'egitto voglio andare a vedere le piramidi non ci sono mai stato costa la metà della metà dell'italia spero che non è che quando sarò là non ci sarà un attentato qualcosa di strano qualche guerra in corso spero che sia già finita ogni dubbio è lecito però io per la prima volta lo dico per la prima volta farò le dirette dall'egitto e andrò là perché a 50 anni mi posso dedicare dopo 50 anni di sofferenza un viaggettino la verità la verità alleati col signore della guerra attenzione per mettere le mani sui migranti il vice ministro bignami chiede indagini alle capitinerie mentre l'esecutivo conte tratta sulla Libia il clan Casarini contatta il portavoce di affare per trasferire da un cargo fermo a misurata decine di clandestini sul mare Ioni obiettivo un caos belli contro l'Italia anche la casa del no global era pagata dalle ONG questo è veramente uno scandalo e va avanti questo scandalo dopo di chiesto per arrivare con una notizia clamorosa che è sulla verità riguarda Pfizer siete collegati intanto mi dice Adele entra Ucraina e esce l'Italia grande gioia per gli italiani fuori dall'Europa eccoci è solo bla 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 la Moldavia non vuole sapere dell'Europa Ucraina è impossibile solo giustificare le loro sporcizie a bugiardi tutti i robbi eh Catalina come ti capisco Catalina come ti capisco ma con l'Ucraina non esiste più Ucraina e Edward purtroppo purtroppo ogni dubbio è lecito Pfizer attenzione tonfo in borsa pom 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 tonfo in borsa di Pfizer la pressione per i vaccini è figlia dell'allarme sui conti guardatelo guardate questo signore qua che c'è rimasto lo sapevate che lui è di origine ebrea non lo sapevo burla ho scoperto che è figlio di ebrei non lo sapevo eh l'ho scoperto ieri e quindi messa malissimo in borsa la Pfizer vi dispiace scrivetelo nei commenti e intanto dia invece doppia patacca di Conte per ripulirsi dal Messe il grillino accusa la Meloni ma la rivoluzione di fine 2020 lo autorizzava solo a trattare una riforma e caduto il governo il tavolo andava sospeso Tremonti il fondo del 2011 legato agli Eurobond non c'entra con questo e quindi si continua a parlare di questa discussione in merito al Messe che sarebbe stato approvato da Conte dopo la caduta del governo quindi una cosa molto triste anche il messaggero amici parla delle come poi del resto tutte le prime pagine oggi le prime pagine dedicate all'ingresso delle dell'Ucraina in Europa Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea cebbe libera ai negoziati Meloni ha convinto Orban a rinunciare al veto l'Ungheria non vota Michael o Michelle momento storico scusate l'ignoranza la mia ignoranza Zelensky esulta ora Kiev è più vicina alla Nato a masse cellule bloccate in Germania erano pronti a colpire in Europa purtroppo Piano ha sventato 4 arresti per fortuna uno in Olanda non si trova l'arsenale continuano intanto con la guerra poi in Italia questo articolo è molto interessante guardate in Italia stipendi fermi da 30 anni in Europa più 32,5% i salari reali sono aumentati solo dell'1% occupazione su ma sale all'età dei lavoratori amici se ci volete in Europa e bisogna che venga adeguato tutto all'Europa perché se in Europa il salario medio aumentato del 32,5% in Italia dell'1% avete rotto le scatole anche gli italiani hanno voglia che vengano aumentati salari come del resto dell'Europa se ci volete in Europa intanto abbiamo Andrea Damasco che dice ma questi tizi in galera non ci vanno mai un poveraccio se ruba un pezzo di pane e per bisogno si fa al minimo tre anni tre mesi di galera Andrea Damasco concordo con te purtroppo la legge non è uguale per tutti questa è una cosa chiara a tutti e vediamo le ultime paginine volevo vedere il resto del carlino vabbè abbiamo il mattino che anche il mattino tratta un argomento importante che è quello dei salari minimi andiamo a leggere insieme e il mattino dice salari fermi da 30 anni cosa vergognosa i dossier dell'INAP nell'area OXI stipendi cresciuti in media del 32 guardate leggetelo bene del 32% dal 1991 in Italia solo dell'1% manovra con fiducia primo sia senato e amici questo qua salari fermi da 30 anni è la cosa sulla quale dovremmo discutere di più andare nelle piazze è una cosa veramente indegna veramente veramente triste il gazzettino Ucraina e Moldavia più vicine il resto del carlino stop e questa parla di un'altra cosa attenzione andiamo a vedere il carlino cosa dice stop al caro tassi l'economia respira e la banca centrale europea lascia invariato il costo del denaro il presidente lagarde è cauta ma i mercati scommettono sulla riduzione del prossimo anno nuovo patto di stabilità l'italia strappa più flessibilità bruxelles concede un miliardo in più per migranti ma i paesi del nord fanno muro abbiamo il centro pagina il consiglio dell'unione europea che apre i negozianti guardate zeleschi ovviamente porta aperta zeleschi veramente sorridente quando in verità c'è chi contesta questa decisione il popolo non mi sembra molto convinto della decisione e a voi comunque giudizio nei commenti e io vi voglio bene vi auguro una buona giornata oggi venerdì 15 ho due notizie pesantissime che però ve le dirò più tardi me ne tengo nel cassetto ve le dirò più tardi vorrei dirvele adesso ma non posso ve le dirò più tardi e poi vi dirò l'iniziativa che sta per partire forse oggi contro la denuncia alla usl per violazione della privacy quindi preparatevi perché ci sarà la possibilità con una cifra modessa di utilizzare i legali che ci sono convenzionati con noi e fare direttamente causa alla usl qui in questo caso per modana ma si potrà usare poi quando ci sarà bisogno per tutta italia fare causa per violazione della privacy perché non stanno tutelando in modo adeguato i nostri dati detto questo vi saluto vi auguro una buona giornata vado a pranzare ciao a tutti grazie ai collegati a più tardi a più tardi mi raccomando commentate ti saluto sempre un grande ciao dalla germania andrea damasco ti voglio bene abbiamo gente collegata dalla moldavia dalla da da miami dalla germania e un po da tutta è un po da tutta europa e non solo europa quindi vi voglio bene vi auguro una buonissima giornata ciao